Certo Certo L'ha uccisa lei? No No, di certo Ma cosa le salta in mente? Ma si calmi, si calmi Rutinza, le solite domande Lei lavora di notte, vero? Ma certo, lo sa benissimo E le piace il suo lavoro? L'unico vantaggio è che tornando a casa all'alba vedo i primi negozi che si aprono Sento l'odore del pane appena sfornato Guardo la gente che si affanna per andare al lavoro Mi sembra sempre una rivincita verso gli altri Un modo come un altro per trovare una giustificazione alla mia condizione E sua moglie come... Come ha reagito a questo suo modo di vivere? Direi bene Qualche difficoltà all'inizio Ha mai pensato che la tradisse? Questa domanda è anche nel questionario Questa domanda è un'ottima Questa domanda è un'ottima Questa domanda è un'ottima Questa domanda è un'ottima